E' stata presentata il 19 gennaio presso il Centro Incontri della Regione Piemonte la 29esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che quest'anno si svolgerà dal 12 al 16 maggio. In questa edizione il tema conduttore si intitola Visioni intese come sguardo progettuale verso il futuro. Anche il Consiglio regionale sarà presente con un proprio spazio espositivo e un ciclo di iniziative dedicate alle sue pubblicazioni più recenti.